Signore e signori buongiorno e benvenuti a Vicenza Oro marzo 2022. A nome di Italian Exhibition Group vi do il benvenuto e vi ringrazio per essere qui con noi a Vicenza oggi e nei prossimi giorni. È un piacere particolare essere qui oggi a parlare di bellezza perché è un tema caro a Vicenza Oro, soprattutto per quello che Vicenza Oro vuole essere. Vicenza Oro non è solo un trading hub, un momento di pura transazione commerciale, o perlomeno non solo, ma è anche un hub culturale come spesso lo chiamiamo e come hub culturale ha la responsabilità verso il settore di trasferire conoscenza, fare in modo che questa si sviluppi e in particolare indirizzare alcuni temi, sostenibilità, innovazione e il tema della bellezza insieme poi a quello della formazione, sono temi importantissimi per noi. Non ne parliamo noi della fiera perché noi non siamo maestri in questo, noi semplicemente facciamo da piattaforma perché la gente che mastica di questi concetti e li trasferisce al settore li porti qui e qui ne parli. Quindi ringrazio tantissimo a Sogem per organizzare questo evento, grazie Paolo. L'altro tema, oltre al cultural hub della fiera, è questo tema della community, lo dico sempre, il tema della community vuol dire che Vicenza Oro è una piattaforma perché la community si ritrovi e devo dire che qua abbiamo una bella rappresentatività di questa community, c'è Assogem, c'è Sivgio con il presidente, la Loredana con la parte delle gemme, i nostri super brand da Damiani a Crivelli e poi i maestri come Giampiero Bodino e Raffaele, anche lui un maestro nella sua professionalità. Quindi grazie a tutti, lascio la parola al presidente di Assogem, Paolo Cesari, grazie Paolo per essere qua. Grazie. Buongiorno, ringrazio Marco Carniello per l'introduzione a questo talk di Assogem dedicato alla bellezza e alla formazione. Marco è un ottimo oratore, io sono più un uomo di numeri e di fare e non di parole. Spero che mi scuserete se darò uno sguardo ai miei appunti, anche perché su questo palco ci sono presenti importanti e non vorrei che mi mancassero le parole giuste. Per ringraziarle tutte. Alessia Crivelli, presidente della Fondazione Mani Intelligenti, è da sempre immersa nella bellezza per ragioni di famiglia e che ha scelto la formazione di giovani mani intelligenti come priorità strategica per la crescita di tutto il nostro settore. Loredana Prosperi, direttrice dell'IGI di Milano, la persona che ci guida da un paio di decenni con passione e con chiarezza. Tra i misteri della bellezza di una pietra e che ha fatto della formazione una scelta di vita quotidiana. Giampiero Bodino, direttore artistico del gruppo Richmon, la cui visione della bellezza influenza da anni l'intero mercato del lusso e che presta la sua esperienza anche per formare i futuri talenti creativi nella Creativa Academy di Milano. Simone Rizzetto, CEO per il Laboratorio Damiani, che vede l'idea di bellezza trasformarsi quotidianamente. La materia preziosa nel laboratorio che dirige e che promuove, con forza, per tutti i processi necessari a formare i giovani che questa alchimia sono chiamati a realizzare. Grazie quindi ai nostri ospiti e fatemi tornare al tema di questo incontro, che è delicato e forte. È un tema delicato perché la bellezza è delicata, perché la formazione è delicata. La bellezza è delicata perché, se è superficiale, sfiorisce, perché, se è apparente, la sua percezione è soggetta alle mode e alle differenze culturali. È delicata perché comunque è difficile da definire, da fissare in canoni precisi. Anche la formazione è delicata perché, diciamolo pure, è la prima voce del budget che abbiamo l'istinto di tagliare se c'è il mare mosso. È delicata perché, faccio l'esempio di una taglieria, se riusciamo a valutare il risultato a tre anni dall'investimento su una nuova macchina, facciamo fatica a calcolare e a mettere a bilancio il ritorno sugli investimenti dedicati alla formazione. Ma il tema di oggi è anche un tema forte, perché la bellezza è una forma straordinaria. È vero che è difficile da definire, ma credo che possiamo tutti condividere una certezza. Siamo tutti mercanti di bellezza. Raccontiamoci quello che vogliamo, ma un gioiello brutto, una brutta pietra, non si vende o si fatica a vendere. La bellezza è un temo forte, anche perché ha a che fare con la nostra identità. Noi italiani siamo portatori sani di bellezza. L'abbiamo respirata, l'abbiamo vista nei paesaggi e nei monumenti, nell'equilibrio e nella grazia che ci circondano. La bellezza, e qualsiasi cosa sia, è un nostro vantaggio competitivo. Anche la formazione è un tema forte, perché viviamo in contesti, in continua trasformazione. E solo la formazione tecnica e relazionale ci permette di non rimanere indietro. E che, come la bellezza, ha a che fare con la nostra identità, il valore aggiunto delle imprese italiane, dei grandi marchi o ai piccoli negozi, sta prima di tutto nel suo capitale umano. E per far crescere questo capitale non basta il DNA, non basta l'improvvisazione, ci vuole formazione e formazione di qualità. Adesso che vi ho raccontato qualcosa del tema, lasciatemi rispondere alla domanda che forse qualcuno di voi si è fatto leggendo il programma di questo talk. Perché Assogemme decide di organizzare un talk su bellezza e formazione? È una domanda legittima, con una risposta facile. Ci siamo occupati spesso di temi etici, tecnici in questi ultimi anni e certamente non abbandoneremo questi temi. ma se tutta la filiera del gioiello non continuasse a coltivare il senso di una bellezza, possibilmente di una bellezza riconoscibile e non condizionata dai tempi, le attività dei nostri soci sarebbero impossibili da portare avanti. Per quanto riguarda la formazione, sappiate semplicemente che il secondo punto degli scopi definiti nello statuto di Assogemme si occupa proprio della formazione e della promozione della formazione. Anche in questo caso, le attività dei nostri soci sarebbero impossibili da portare avanti senza la possibilità di dialogare con interlocutori formati, competenti e per questo efficaci in ognuno dei loro mestieri. Spero di aver risposto a questo o a questa ipotetica domanda. E per finire vorrei fare gli auguri a Raffaele perché sarà davvero difficile contenere Alessia, Loredana, Giampiero e Simone su un tema così bello e così vicino alla loro sensibilità. Ma prima di lasciargli la parola vorrei chiedere a Gaetano Cavalieri, Presidente del Sibgio, di darci un suo contributo per lanciare i lavori del TOLC e vorrei ringraziare tutti voi per avermi regalato qualche minuto del vostro tempo e della vostra attenzione. Grazie. Grazie Paolo, grazie a Marco Carniello e a Italian Exhibition Group e ovviamente alla Sogemme e a questi magnifici relatori e sicuramente avrete durante questo talk una quantità di messaggi importanti sicuramente belli perché se devono stare nel tema devono essere messaggi belli. Non vuole essere una battuta ma vuole significare una cosa che anche a livello internazionale in qualche misura con i temi della sostenibilità, della trasparenza, dei diritti umani, della gender equality, dell'ambiente e tutti i 17 goal dei Sustainable Development Goals e quindi l'agenda 2030 delle Nazioni Unite questi due concetti ovvero sia educazione e bellezza si coniugano particolarmente bene insieme perché educare così come dice uno dei goal sull'education e l'education intesa in senso largo nel caso specifico non solo della gioielleria, del design, del taglio delle pietre o delle stesse pietre ma anche dell'accostamento di questi componenti per farli diventare tutti insieme degli oggetti di gioielleria che secondo me solo per il fatto di avere questi componenti che sono diciamo il prodotto della terra e quindi i metalli preziosi e quindi le pietre preziose vengono poi elaborati in funzione dell'educazione che si è ricevuta in senso stretto del termine ma dell'educazione che si è ricevuta in senso molto più lato ovverosia nei termini culturali. Queste cose messe insieme come il nostro relatore Giampiero Budino avrà modo di esprimere sono sicuro che avrà modo di esprimerle ovviamente in modo di gran lunga superiore a quello che sto per dire io è in grado di mettere insieme questi elementi e proporre degli oggetti che manterranno la loro bellezza per sempre che è frutto della educazione in tutti i sensi che viene profusa nella creazione dei gioielli che vengono presentati. Io vedo in sala molti amici produttori designer architetti e devo dire nonostante le loro grandi referenze professionali ma si applicano a produrre bellezza in modo appassionato e artigianale nel senso migliore del termine. Quindi vi auguro un buon proseguimento di questa magnifica opportunità e grazie per portare a conoscenza nostra e di tutti coloro i quali ci seguono direttamente e o via internet questi temi e questi concetti che sono essenziali per rendere bella la nostra vita. Grazie. Grazie che tanto. Volevo semplicemente ringraziare i ragazzi che sono qua presenti perché anche questo è un segno di una fiera moderna dal settore visto che credo il limite più grande adesso alla crescita è proprio avere i ragazzi nelle nostre aziende quindi grazie ragazzi di essere qua e complimenti per la carriera che state intraprendendo. Educare alla bellezza educare alla bellezza è un tema enorme e non so da dove cominciare però mi hanno detto che c'è un sistema per mangiare un elefante tutto intero e tagliarlo a pezzettini. Allora questo tema così bello educato ma enorme forse possiamo tagliarlo a pezzettini. La cosa che potremmo cominciare a fare è trovare un'idea comune di che cosa è educare e di che cosa è bellezza. adesso probabilmente i ragazzi benvenuti Steven Lucia avete delle idee completamente diverse su cosa è educare e su cosa è bellezza. Come faccio a trovare qualcosa che vi accomuni? Quando azzurra Cesari mi ha chiamato per dire ti va di fare due domande io gli ho detto subito sì è entusiasta poi sono andato su Google e sono andato a cercare il significato delle parole e ho scoperto delle cose fantastiche. Educare educare viene dal latino educare che è una forma intensiva rafforzativa di educere sapete cosa vuol dire? Portare fuori l'educazione non è qualcosa per la quale spingo qualcuno ad un comportamento che considero aziendalmente o socialmente corretto non è questo tipo di forzatura e non è neanche l'imbuto il vecchio imbuto nel quale un maestro modello modella i propri allievi attraverso l'imbuto ci mette le cose che sa fare. questo è un mezzo ed è un mezzo indispensabile ma non è il fine il fine è tirar fuori dalle persone che frequentano le vostre accademie i vostri istituti gemmologici qualche cosa la bellezza e come si fa? se voi chiedeste a una lustraressa come credo le chiamino nel Veneto o polissosa come credo le chiamino a Valenza come si fa a tirar fuori qualcosa probabilmente ti direbbero la stessa cosa che dice Michelangelo già c'era devo solamente passarla sulla spazzola per tirarla fuori e allora il compito dell'educatore è quello di fare come una polissosa come una lustraressa togliere via roba inutile per fare in modo che il bello emerga e qui potremmo aprire mille discorsi su che cosa dobbiamo togliere dai ragazzi perché la loro bellezza emerga e potremmo fare una forse sessione intera su che cosa dobbiamo togliere dalle aziende per fare in modo che permettano ai loro collaboratori di brillare ma c'è un altro tema bellezza che vuol dire bellezza magari proviamo a entrarci dopo io non ho una definizione di bellezza perché è impossibile allora sono andato a vedere la parola e ho scoperto delle cose ancora una volta ancora più belle bellum in latino vuol dire bello ma in realtà bello si dice pulcher si dice formosus bellum è carino è una forma addomesticata di bellezza sapete da dove viene la parola bellum è un diminutivo di bonum anche per i latini la bellezza è connessa con il bene dico anche come i latini perché il concetto di kalos kaiagatos è tipicamente greco gli eroi greci sono belli e apprezzano la bellezza perché al loro interno sono buoni e la bellezza altro non è che un riflesso di questa loro bontà interiore allora vedete che educare alla bellezza vuol dire etimologicamente tirar fuori il buono tirar fuori il bene capite come in questo momento questo argomento è centrale è centrale per noi che siamo qui è centrale per le nostre aziende consentitemi è centrale il tema di tirar fuori il bene forse anche al di fuori di questo contesto ed è talmente importante che possiamo porci un'altra domanda ma chi dobbiamo educare alla bellezza? tutti dobbiamo educare chi la compra impossibile forse dobbiamo educare chi la vende dobbiamo educare chi la crea chi la immagina chi la disegna ma ragazzi dobbiamo educare chi la fa dobbiamo educare le mani intelligenti che bellezza producono credo che i computer e i tavoli da disegno nel mondo della gioielleria siano pieni di gente sono i banchetti che sono vuoti drammaticamente l'educazione alla bellezza la condivisione della bellezza deve riguardare le persone che la bellezza la fanno con le mani adesso che abbiamo forse definito cosa vuol dire educare che cosa vuol dire bellezza e chi dobbiamo educare alla bellezza posso cedere la parola alle persone importanti però prima volevo definire ancora un'altra cosa prima ci ha detto il presidente Cesari che la bellezza può essere evanescente un fiore ne parlavamo prima con Simone sfiorisce la bellezza di un gioiello è eterna o dovrebbe esserlo ma che cosa rende la bellezza eterna quali sono gli elementi che rendono ad un elemento effimero lo traducono nell'eternità che cos'è che vince il tempo qualcosa che vale e cos'è che vale i valori allora io chiederei a Giampiero ragazzi non so se avete capito chi è Giampiero Giampiero è il direttore creativo di Richmond vuol dire che la sua idea del bello influenza tutto il mondo del lusso allora io chiederei proprio a Giampiero caro Giampiero dopo questa premessa sarà difficilissimo tu sei direttore creativo di Richmond sei un pittore dipingi fotografi ti occupi di arte io ti ho conosciuto come insegnatore di orologi all'epoca hai tante cose c'è un valore o un set di valori che uniscono tutte queste forme della bellezza secondo me c'è c'è e credo che si possa ricollegare molto a questa tua premessa in questo concetto di bellezza dare una definizione di bello oggi è molto complesso è molto difficile avremo bisogno di diverse ore e forse non basterebbe credo che l'educazione al bello come giustamente detto te è qualcosa che deve essere esteso a tutti nella fattispecie mentre tu parlavi mi veniva in mente una considerazione che io facevo dentro di me e che parte di questa bellezza una definizione certa di bellezza che viene che va al di là di quello che può essere il gusto è l'esecuzione che ha reso possibile questa bellezza quando tu parla di mani intelligenti sfondi una porta aperta sfondate una porta aperta perché effettivamente sulla lunga distanza una forma può vedere dei momenti di lustro perché è importante non so per un oggetto per fare un esempio banale oggi va l'oro rosa ieri va l'oro giallo l'altro ieri andava quello bianco però prima andava quello rosso e poi andrà di nuovo quello giallo ci sono delle tantissime variabili per quello che è l'aspetto estetico della bellezza ma c'è un valore intrinseco della bellezza e che partecipa alla bellezza che è l'esecuzione di un oggetto l'esecuzione di un oggetto e non dico che automaticamente lo faccia diventare bello di default però se poi voi andate a vedere soprattutto oggetti che ci provengono dal passato un oggetto eseguito in un certo modo dove chi lo ha realizzato è stato capace come diceva Raffaele nella sua presentazione di tirare fuori qualche cosa di intrinseco continua e continuerà a rimanere bello un oggetto fatto male bello magari diventa carino diventa meno brutto più interessante ma l'esecuzione è una parte una componente straordinaria per portare a galla la bellezza cosa che altrimenti rimanerebbe comunque una definizione sterile o soprattutto una definizione legata a chi la guarda perché il percepito della bellezza non è lo stesso per noi che siamo seduti qui oggi non è lo stesso se fossimo seduti in Estremo Oriente in Sud America in Sud Africa però l'eccellenza della maniera in cui chi fa bellezza traduce idee e infatti è attemporale ed è incontestabile ed è incontestabile diventa oggettiva esatto grazie c'è un'altra cosa che fa rima con bellezza ed è gentilezza cioè soprattutto dopo la pandemia abbiamo riscoperto almeno nella teoria il management la forza della leadership della gentilezza allora io volevo chiedere ad Alessia che oltre a essere anima di mani intelligenti anche per diritto di famiglia per in qualche maniera immersa nella bellezza sia visto anche nel mondo manageriale del gioiello qualche cosa che assomiglia la gentilezza sì sì assolutamente sì paradossalmente l'ho visto proprio in un momento difficilissimo quello della pandemia nel momento in cui è esplosa questa pandemia e ci siamo trovati tutti ad avere a che fare con qualcosa di impensabile di assurdo e di doloroso anche perché ci siamo trovati davanti a cose dolorose ci siamo riscoperti gentili allora devi sapere che quando siamo arrivati a fine febbraio inizio di marzo del 2020 cominciavano a esserci i primi casi in Italia cominciava a essere una situazione complessa le aziende erano ancora aperte hanno chiuso le scuole ma le aziende funzionavano ancora mi ricordo doveva essere forse il 7 o l'8 di marzo quindi io parlo prima che il governo ci fermasse effettivamente noi ci siamo sentiti tutti ovviamente già in quel momento online abbiamo fatto una riunione non solo di aziende della fondazione ma di aziende valenzane e non solo perché c'erano anche aziende fuori valenza abbiamo chiacchierato un po' confrontandoci su quella che era la situazione che stavamo vivendo abbiamo deciso insieme di chiudere prima ci siamo fermati prima perché abbiamo capito che oltre alla nostra insicurezza quindi dalla parte di chi è alle redini quindi degli imprenditori noi volevamo tutelare le persone che lavoravano con noi e renderle sicure e farli sentire che almeno una sicurezza in quel momento di insicurezza c'era ancora credo che Alessia questo mondo che è cambiato ci ha insegnato il valore della cura dell'altro che è la cura del cliente certo che è la cura del cliente interno ancora di più soprattutto il valore la cura del valore del nostro mondo quindi prendersi cura sia delle persone che lavorano con noi che lavorano per noi dei nostri clienti la capacità anche di ragionare e pensare siamo tutti fermi fermiamo un attimo le ricevute bancarie aspettiamo un mese non cambia niente tanto anzi diamoci una mano cerchiamo di trovare un modo per far sentire che ci siamo perché quello è il nostro lavoro ma prima del nostro lavoro siamo persone che lavoriamo in un mondo bello perché noi creiamo sogni perché poi lavoriamo con dei materiali talmente belli che creiamo veramente sogni diamo materia ai sogni ma anche alle emozioni quindi abbiamo cura delle emozioni siamo gentili grazie grazie ci starebbe anche un applauso allora abbiamo parlato di sogni di gentilezza Raffaele è andato a cercarsi le parole latine sì vabbè tanta roba ma concretezza allora noi abbiamo una persona che per definizione è concreta Simone Rizzetto è un uomo che la cui responsabilità sta nel prendere idee magari disegni magari scritti e tramutarli in materia in cose vere che si possono toccare vedere nelle vetrine e suscitare sogni Simone esiste una bellezza della concretezza? esiste esiste senz'altro la difficoltà è quella che un po' hai anticipato non coincide la bellezza con la concretezza cioè hai smarcato che il gioiello è bello e concretamente bello lo sarà nel tempo deteriora pochissimo ma mantiene la sua bellezza il problema che abbiamo è la concretezza nel farlo nascere due grandi temi abbiamo nella nostra azienda uno è quello dello sviluppo dell'idea quindi passare da un disegno a volte da un'idea raccontata di un cliente della proprietà che dice ma ho quest'idea da fare e il secondo passaggio è poi quello della produzione quindi poi della ripetibilità che sia nella piccola serie oppure anche più importante e quello è l'altro passaggio ecco conciliare la concretezza diciamo nell'accezione aziendalistica mi ricollego alla presentazione dove si parla poi di conto economico di attenzione ai costi non è facilissimo perché i creativi i disegnatori hanno esigenze che trasmesse con una sensibilità particolare e non si riescono a tradurre al primo colpo e anche anche mai le avessi tradotte perfettamente da un disegno poi anche chi l'ha ideato non è che che non è non è non può passare da ripensamenti oppure andare a vedere nel concreto quello che quello che è stato realizzato e ripensarci e farti fare un cambio un secondo cambio e come sapete poi questi appuntamenti invece tendenzialmente hanno delle date arrivano adesso c'è stata qualche dilazione per i covid però arrivano sempre a gennaio settembre basilea ginevra e tutto questo e quindi questo la concretezza nell'accezione aziendalistica e farla conciliare con la bellezza che comunque è la prima cosa che dobbiamo avere in mente quando lavoriamo non possiamo mai trascurarlo altrimenti probabilmente al mio posto ci sarebbe un ingegnere meccanico o qualcosa di questo tipo le stesse deroghe alla concretezza poi le abbiamo anche in produzione perché comunque l'obiettivo è quello poi di arrivare ad un oggetto che sia bello che sia bello perché l'esecuzione è stata fatta come ci si aspetta e quindi una volta che l'esecuzione è quella è automatico vendere più facilmente quello che fai soprattutto se poi hai da mantenere anche alto il nome dell'azienda e la credibilità quando vendi i tuoi prodotti quindi da quello che mi dite mi sembra di capire correggetemi se sbaglio che i valori che sottengono che sopportano la bellezza sono il saper fare le cose bene l'ascoltare sono cercare di essere belle persone che fanno belle cose per il mondo le persone gentili sono sempre belle anche se non sono perfette emanano bellezza comunque persone quindi gentili che emanino bellezza io avrei fatto un altro applauso ma va bene e c'è un altro tema che è un tema di flessibilità di dialogo chi fa deve essere capace di avere quella flessibilità pure se la data di Vicenza rimane sempre quella e quindi è difficile ma avere la flessibilità dell'ascolto Loredana c'è una domanda bella per te che a me ti piace a occhio ti piace a occhio sì ok allora credo che ci siano due modelli di bellezza una bellezza effimera quello che abbiamo detto è una bellezza durevole la bellezza effimera può anche ricorrere al trucco può anche ricorrere alla finzione può anche ricorrere al sotterfugio qualche volta la bellezza eterna si basa su verità su valori e su verità nel tuo mondo nel mondo della pietra questa dinamica tra bellezza finta bellezza artefatta e bellezza vera ha dei riscontri o no? tantissimo tantissimo allora in tanti casi uno del un caso è quello dei trattamenti sulle gemme che se vogliamo appunto parlare di bellezza c'è un grande scienziato che l'ha chiamato l'abbellimento artificiale delle gemme perché chiamarlo trattamento era proprio brutto però parlare di abbellimento artificiale vedi porti fuori qualcosa di bello anche da sentire da non spaventare comunque il pubblico e questo è un tema ma che c'è sempre stato quindi non dobbiamo sempre vederlo come qualcosa di negativo già i romani avevano capito che se riscaldavo alcune pietre viravano di colore erano più piacevoli perché in quel momento appagavano veramente l'occhio poi hai detto tu la bellezza è qualcosa di anche proprio di di personale molte volte di pancia mi piace non mi piace mi devo educare a capire se quella cosa è anche bella e fin quando rimaniamo in quel tema più o meno possiamo anche accettarlo poi in realtà però c'è anche tutto il tema della sintesi di fare artificialmente qualcosa che normalmente in natura c'è e quindi da metà dell'ottocento l'uomo ha cercato di sostituirsi diciamo a Dio e a creare in laboratorio rubini sintetici smeraldi sintetici diamanti sintetici quindi proprio perché sostituivi il qualcosa di non buono non più buono cioè di qualcosa di falso al vero e lì anche lì andiamo cioè ok un rubino sintetico può appagare l'occhio perché è rosso come rubino naturale però poi c'è tutta la parte di storia cioè rubino naturale mi racconta quanti anni ha da dove arriva è un pezzo della terra ed è piacevole appunto avere incastonato qualcosa che mi ricorda la terra qualcuno dice ma si sfruttano le miniere è molto meglio avere qualcosa di sintetico sì ma nulla si crea nulla si distrugge quel sintetico l'hai fatto comunque con un altro materiale quindi in realtà è distrutto allora quel ecosistema quindi alla fine io dico sempre che il vero è quello che appaga di più e che poi rimane come valore perché comunque è legato ai nostri 4 miliardi e mezzo di storia della terra grazie Loredana io ascolterei Loredana per 4 miliardi e mezzo di anni perché ogni volta riesci a raccontarti i sassetti con un fascino assolutamente straordinario però c'avevo un'altra domanda per Giampiero allora io mi sono fatto un'idea che ci siano due tipi di bellezza in fin dei conti come dicevamo prima quella un po' artefatta e quella un po' vera e mi sono fatto l'idea che ci siano due modi di approcciare la bellezza un modo è c'è un modello esterno al quale io mi adeguo quindi faccio di tutto per assomigliare a qualche altra cosa poi c'è un altro modello che è un modello interiore io faccio di tutto per distinguermi per andare in qualche maniera ad affermare la mia maniera di essere bello adesso io faccio fatica la mia maniera personale di esprimere quel bene che esprimo attraverso il bello io ho lasciato come tu sai bene un pezzo di cuore in un'azienda nella quale ho lavorato per un po' 18 anni e in questa azienda quando arrivava un prodotto nei negozi il direttore lo guardava e ti diceva questo si vende questo non si vende e normalmente ci beccavano spesso perché quello che non gli piaceva poi non lo spingevano ma di solito ci beccavano che cosa è che gli faceva dire questo si vende questo non si vende non te lo sapevano spiegare ma una cosa ti dicevano questo prodotto ha i codici di riconoscimento di quella marca è un prodotto che ha una identità forte adesso però noi viviamo nel mondo delle identità liquide in cui tutto cambia costantemente in cui anche marche io penso adesso al mondo della moda che avevano un'immagine molto definita hanno addirittura cambiato nome e mescolano cose completamente diverse Gian Piero esiste la possibilità ancora di collegare la bellezza all'identità e all'identità di marca ma non solo esiste ancora ma è diciamo quello che cercano di fare tutti i colori quali lavorano all'interno della ricerca per una marca per una maison che fanno studi sul design studi sulla storia della marca è fondamentale questo è obbligatorio in qualche maniera obbligatorio e succede ancora e una dimostrazione è che questo quando succede fa sì che i prodotti funzionino funzionino cosa vuol dire funzionano si vendono si vendono piacciono e l'elemento oggi come oggi da chiedersi è come un'azienda riesce in questo intento per riuscire in questo intento visto che hai menzionato tu la fluidità i generi sono molto diversi ci sono molte esigenze trovare una categoria di bello che funzioni per tutti è impossibile però quello che si può fare quello che si fa seguendo una logica normale è quello di cercare fondamentalmente di creare nuovi prodotti che da una parte tengano conto di rispettare certi canoni che sono fondamentali per rappresentare il messaggio estetico di una maison che ha 200 anni di storia 100 anni 25 e poco importa devono in qualche maniera da una parte tenere conto di quello che è il passato di quello che è l'idea iconica che quella che quella marca rappresenta e dall'altra che cosa sta succedendo in ragione nostri per cui tenendo tenendo in considerazione questi due elementi fondendoli si cerca di portare avanti quello che tu dici la bellezza applicata a un prodotto a una storia brevissimamente che cosa succede che a un certo punto anche con i nuovi modi di entrare in contatto con il cliente post covid che quindi stiamo parlando di online si è aperta moltissimo la audience delle persone che in qualche maniera entrano in relazione con te cosa molto importante è riuscire di nuovo a trasferire questi codici per un pubblico che è così vasto rispettando sempre sia gli uni che gli altri certo e alcuni dei quali non compreranno mai ma sono importanti comunque anche chi non compra è da rispertare ed è un portavoce di un pensiero in qualche modo questa ragazzi è una rivoluzione nel mondo del lusso cioè una visione completamente diversa rispetto alla vecchia visione del lusso esclusivo assolutamente questo è un mondo che in qualche maniera include che si rivolge anche a chi non compra no no io vorrei proprio aggiungere questo piccolo particolare che è fondamentale nel nostro gruppo la parola online fino a qualche anno fa era vista come il fumo negli occhi ma giustamente perché perché ci doveva essere la cura per il cliente la relazione diretta one to one il fatto di non solo vendere un oggetto ma essere anche in grado di trasferire un concetto una storia una coccola un'attenzione una gentilezza come dicevi tu prima oggi permangono questi valori ma devono essere allargati bisogna aprirsi quindi oggi l'online è visto come una possibilità di fare allargare questo messaggio a più persone possibile quindi indipendentemente dalla vendita poi è logico che non siamo però in qualche maniera un tema di identità condivisibile condivisibile certamente a proposito di identità io ho avuto il piacere di lavorare con tu prima hai citato alcuni no alcuni distretti del gioiello ho avuto il piacere di lavorare in quasi in quasi tutti e ho trovato per esempio quando ho conosciuto i ragazzi del Tari delle cose fantastiche insieme a Andrea Maria Romano che ha messo in piedi una cosa fantastica con delle caratteristiche molto specifiche volevo chiederti questa identità legata al genus loci proprio legata a quel contesto è un valore o è un rischio per la formazione in gioielleria è assolutamente un valore è un valore fondamentale l'ha detto lui prima le radici la storia la tradizione quello che siamo stati è quello che siamo adesso e arriva da quello in cui noi siamo stati quindi è vero hai citato il Tari ha una scuola straordinaria è meravigliosa il nostro comparto nazionale ha dei distretti orafi con delle verticalità meravigliose ognuno ha la sua identità ed è questa la cosa bella ed è questa la cosa da raccontare da raccontarla ai ragazzi e fargliela vedere che ci sono tanti modi tante identità in questo mostro mondo ed è una cosa veramente molto molto bella ed è fondamentale imprescindibile senza identità non c'è valore non c'è quel sentimento non c'è quella spinta che ti dice indossami è una cosa veramente anche fisica ed è fondamentale grazie Simone rimanendo sul grande tema dell'identità oltre a un'identità diciamo locale di distretto c'è un'identità anche di organizzazione nel tuo caso di marca quando ci sono delle persone che tu formi o addestri a entrare poi dopo in linea c'è una dimensione che è solo tua o solo della tua azienda e non di altri solo della nostra no però hai colto a nuivo mentre stavi parlando sicuramente il genius loci il concetto che hai provato avanti lo condivido in pieno anzi da così l'ideale nostro di vedere in Valenza quello che naturalmente in maniera piccolissima ci fu a Firenze piuttosto che a Venezia in altri tempi è una bella una bella ambizione ed è una cosa che nel nostro piccolo di artigiani non di grandi artisti come quelli che ci sono stati a Firenze e Venezia chiaramente ci appaga e ci fa puntare in quella direzione tant'è vero che lo suggerì anche al buon Cravera all'inizio come argomento da portare avanti nella fondazione dicevo quindi passando da questo concetto locale poi inevitabilmente per nostra per nostra formazione e mentalità ce n'è ancora uno più più piccolo più piccolo dentro dove è quello che quello che è proprio del marchio o della famiglia che sta che sta in quel momento lavorando nel nostro caso per farti poi l'esempio concreto di quello che abbiamo fatto perché l'attività delle academy interne in Damiani è partita ormai da quattro anni abbiamo una certa continuità e comincio ad avere anche un'esperienza di numeri che non sono quelli delle multinazionali ma cominciano ad essere non più decine ma centinaia di persone conosciute centinaia di persone venute in azienda e quindi cominci a farti un'idea i programmi chiaramente erano rivolti a persone che avevano già avuto una prima formazione nei vari distretti su Valenza Altari però poi dovevano essere focalizzati su quello che noi intendiamo su quello che è il nostro modo di fare gioielli quindi dato per buono quello che già c'era di acquisito ci siamo fatti i nostri programmi che poi per raccontarti raccontarvi da dove vengono vengono dall'esperienza ripercorrono quelli che avevo vissuto io 35-40 anni fa mio fratello poi abbiamo la fortuna di avere ancora il papà che lavora in azienda con noi e lui ha un'esperienza di 61 anni di lavoro e tenuto conto che bene o male ha imparato da qualcuno che una dozzina una ventina d'anni più di lui li avrà avuti quando ha iniziato si fa presto a pensare che quello che noi trasmettiamo oggi ha una radice di almeno 80-100 anni in più è noto l'azienda Damiani il fondatore ha iniziato 98 anni fa nel 2024 saranno 100 anni quindi quando parliamo del nostro modo di far gioielli parliamo di una storia che anche direttamente è giustificata a un secolo solo 80 anni di tradizione valenzana che si trasmettono continua e ne interrotta guardi 61 certificato una quarantina 35 è nostra quando abbiamo iniziato quindi un pochino di storia cominciano a esserci concreti grazie Loredana mi sono fatto un'idea sono fatto un'idea che la perfezione omologa me la sono scritta perché che la perfezione omologa è che il difetto identifica c'è una bellezza nel difetto nelle pietre secondo me è fondamentale allora pensa pensa soltanto al fatto come noi gemmologi abbiamo deciso anche di non parlare mai di quello che viene definito difetto l'inclusione di non chiamarla difetto ma di chiamarla caratteristica interna quindi già il fatto come ho detto l'importanza della parola cioè se tu usi una parola positiva trasmetti anche la sensazione positiva quindi tutto quello che era non so non puro che una volta appunto il diamante non è puro allora non lo voglio in realtà facendo capire come la posizione di quell'inclusione la dimensione eccetera caratterizzava proprio quella pietra la rendeva unica e dicevo con tutti i diamanti tagliati che ci sono comunque anche ogni diamante identificabile come ogni essere umano identificabile dagli impronti digitali noi tutti siamo unici sembriamo simili eppure non lo siamo e questo è importante anche per le pietre e molto spesso poi tutte quelle diciamo inclusioni quelle caratteristiche interne alcune pietre possono vengono valorizzate per la presenza ci sono alcune pietre che i fenomeni ottici particolari sono evidenziati proprio da un taglio ben effettuato e anche lì vorrei spezzare una lancia a favore dei tagliatori che sono quelli capaci proprio di tirar fuori la bellezza di una gemma cioè noi possiamo avere un grezzo arrotondato ma è soltanto l'abilità quindi le mani di un tagliatore che fanno sì che quella gemma possa esprimere bellezza e quella bellezza sono sensazioni la brillantezza la dispersione cosa che cerchiamo di spiegare durante i nostri corsi che sono sensate cioè sono fenomeni fisici però in realtà sono belli cioè quindi bisogna proprio anche capire come spiegare questa bellezza agli studenti che poi decideranno che cosa fare anche da grandi grazie e grazie a tutti quanti voi per essere tornati di fatto molto spesso sul tema dell'importanza della narrazione sul tema dell'importanza in cui del fatto che esiste qualche cosa ma finché non diventa un racconto è come se non esistesse e questo racconto deve essere condivisibile e in maniera anche semplice tra le mille cose che fai tra le tue tante caschette anche tra le mille cose che fai sei testimoni della decessione della creativa accade una bellissima avventura un'avventura fatta credo con Richmond la scuola di formazione Richmond credo che abbia anche la partecipazione del polidesign Alba in qualche maniera Alba Cappellieri e poi partecipano tutte le marche del gruppo Richmond c'è una cosa in sintesi in sintesi una narrazione un elemento di narrazione che tu dai a questi ragazzi e che è proprio l'essenza di quello che loro dovranno fare perché magari aiuta anche i ragazzi che sono insieme Allora io aprirei soltanto una piccola parentesi per chi non sa di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un progetto Richmond di ormai vent'anni fa da parecchi anni che si sta facendo questa operazione è una scuola aperta a tutto il mondo quindi post graduate quindi tutti gli studenti del mondo possono partecipare con tutte le diverse culture e quant'altro assolutamente gratuita per gli studenti perché viene pagata dal gruppo quindi trovo che sia anche questo molto importante per una sorta di democrazia della trasferimento di una conoscenza deve essere gratuita questa cosa secondo me è molto importante stavamo dicendo ci sono per cui questo è dedicato non è una scuola dedicata ai giovani designer quindi una storia per formazione per designer no non per chi andrà poi a realizzare il pezzo però in qualche maniera anche loro utilizzano le loro mani è vero che c'è sempre di più l'esigenza del computer l'utilizzo delle macchine anche se ci sono delle maison che impongono ai loro designer di essere capaci di disegnare a mano libera ed è un plus indispensabile vedi Van Cleef Cartier anche se comunque l'utilizzo della tecnologia è estremamente importante per tornare quindi a questa scuola e alla tua domanda c'è un qualche cosa che sia in sintesi il messaggio allora di messaggi che io con il mio intervento sulla scuola porto sono tanti però ce n'è uno che è fondamentale secondo me che è quello di insegnare ai ragazzi a saper guardare e a saper capire quello che stanno per fare di solito le nuove generazioni ma un po' tutti quando avevamo vent'anni avevamo un sacco di idee non che le abbiamo perse fortunatamente però diciamo che saper guardare è diverso da lanciarsi a fare delle cose senza pensare è importante l'istinto l'istinto di un giovane che disegna ma è anche importante insegnare a questi ragazzi come usare questo istinto e come condurlo nella loro capacità di creazione quindi questo è il messaggio che secondo me è il più importante quello di quindi in sintesi abbandonare un attimo quelli che sono i propri atteggiamenti egocentrici la propria personalità nevrotica piuttosto che simpatica non ha importanza ma comunque mettere un attimo da parte e saper imparare a guardare guardare capire cosa significa significa guardare capire la storia di una marca per cui lavoreranno e a quel punto li metterà nelle condizioni quando avranno guardato e capito di poter mettere a frutto le loro capacità progettuali io prima dicevo quanto è bella la narrazione la narrazione il racconto ha un primo passo l'ascolto se non ascoltate non potete narrare la tua idea di guarda cosa c'è attorno prendi le tue energie ma al servizio di un progetto più alto guarda cosa c'è è assolutamente centra e sono sicuro che piacerà molto a Simone che deve dialogare poi dopo con i creativi che a volte hanno tendenza ad ascoltare poco le esigenze della produzione ma è come cliché poi magari non sono tutti così il compito dei creativi è quello di decollare e partire e seguire una tendenza o qualche cosa e poi c'è anche il compito di farli atterrare o tenerli attaccati con le bandierine follow me quindi bisogna ascoltarli e bisogna che loro ascoltino tema dell'ascolto tema della narrazione Alessia ho una domanda abbiamo parlato di narrazione ma la formazione si può narrare in altri termini se io fossi un gioielliere e devo vendere un bel gioiello posso narrare la formazione cioè la formazione che voi fate che permette a dei giovani di conquistarsi un futuro che permette a delle aziende di mantenere una prospettiva grazie ai ragazzi che andranno a lavorare può essere interessante anche per chi acquista il prodotto assolutamente sì ultimamente soprattutto soprattutto anche in questi ultimi anni la storia dell'oggetto che una persona si trova davanti è fondamentale qui lo dico come formazione lo dico come azienda capita spesso che ci arrivino delle richieste dal cliente finale con cui noi abbiamo poco interazione perché abbiamo una rete di B2B che ci chiedono informazioni ma non per una questione di tracciabilità piuttosto che la storia o ci chiedono la storia di una nostra linea e questo funziona anche a livello formativo perché per tanti anni noi abbiamo parlato nel nostro lavoro solo attraverso i nostri oggetti finiti non abbiamo quasi più parlato di quanto è bello il valore della nostra filiera produttiva dai pensieri i sogni le immagini tutte queste grandi famiglie sia le grandi maison ma anche le grandi famiglie come siamo per esempio a Valenza o negli altri distretti che sono famiglie come la Damiani che sono nate all'inizio del novecento per un sogno e hanno lavorato ci sono tanti imprenditori che sono qui e ci sono ancora perché le nostre le prime generazioni tante prime generazioni ci sono che hanno girato porta a porta con le loro creazioni fatte a mano quindi girando veramente l'Italia porta a porta con la valigia sì con la valigia bravo con la valigia mio padre è uno di quelli e quindi in tanti l'hanno fatto e questo va raccontato la formazione che c'è stata dall'immaginare e dal lavorare magari al banco e dal pensare ma sto facendo una cosa talmente tanto bella perché non la vado a far vedere ad altre persone perché magari a qualcun altro piace quindi questo sì è fondamentale secondo me grazie grazie a voi noi abbiamo finito il nostro tempo ma mi permettete altre due domande prima di scappare via perché sono due domande cattive no c'è una domanda da 200.000 punti esiste una bellezza del gesto nelle unità di produzione anche queste esiste esiste sì ci ho pensato il gesto per spiegarlo a tutti in una maniera forse più più semplice è quello di assimilarlo a un gesto di uno sportivo lo sportivo che compie un bel gesto generalmente è anche vincente immaginate il centrometrista immaginate io per passione personale non posso fare riferimento al tennis a un gesto di Roger Federer è noto a tutti è un bel gesto e lo ha portato anche a vincere nel tempo quindi questo è quello che per far capire a tutti quanto può essere bello un gesto e a cosa può portare non è così immediato cioè non è così intuitivo però questo succede nel nostro lavoro nel nostro lavoro gli orafi più esperti chiaramente insegnano e notano come è realizzato l'oggetto ma arrivo a fare un passo in più non è l'oggetto ben fatto oltre che essere realizzato per bene con la manualità e questo l'orafo esperto lo coglie nei laboratori soprattutto quando sono più piccolini si coglie addirittura una sonorità nel gesto per cui per cui non è non è raro vedere l'orafo più esperto che alza gli occhiali dà un'occhiata perché sente una lima che stride una fresa che si è spezzata un cric di una pietra un pochino più più delicata che ha avuto una sorte ingrata e quindi c'è una bellezza che a tutto tondo parte da come da come è eseguito il il gioiello per essere eseguito bene anche la sonorità alla sua parte vi garantisco che gli esperti la colgono la sua creazione è un'esperienza polisensoriale in realtà sicuramente quindi guardi usi gli occhi usi le mani ascolti i suoni una parte che poi arriviamo alla fine non spoilerò niente anzi il contrario ho visto che non è stato toccato una delle nostre di tutti fortune fortune è che abbiamo a che fare con la bellezza di materie ed è che è una bellezza ancestrale cioè è dentro e viene da sempre quando vi siete fatti una passeggiata avete visto il colore delle pietre quello naturale un po' indotto il colore delle pietre è bello del suo perché quel verde è particolarmente bello il rosso di un rubino è piacevole il blu meraviglioso e lì non è che qualcuno un aiutino ce l'ha dato però in sostanza è bello del suo e piace all'uomo da sempre la mia fantasia immagino immagino veramente il primitivo che è iniziato dalla conchiglia o dal minerale che per fortuna trovava trovava boh cercando magari di mangiare e trovava poi pure quello e piaceva e lì tutte le sovrastrutture che ci sono adesso di comunicazione e di marchio non esistevano vuol dire che quello era bello intrinsecamente punto e coglieva qualcosa nel nostro cuore nel nostro cervello non nel nostro di chi ci ha preso voluto grazie Simone grande Simone grande grazie Loredano un'ultima domanda per te volevo chiederti abbiamo parlato di identità l'identità della pietra ma c'è anche un'identità della formazione c'è anche una caratteristica che fa per esempio una differenza tra le tue scuole e altre scuole cioè c'è una scelta identitaria certo che se lo chiedi a me che sono il direttore dell'istituto gemmologico ti parlerò bene del nostro istituto però anche questo mi allaccio a una cosa che ha detto Alessia il sogno beh anche il nostro istituto è nato da un sogno è nato da un sogno di 20 imprenditori che hanno visto che mancava la formazione gemmologica in Italia si faceva all'estero si faceva in Inghilterra dove c'è l'istituto più antico di gemmologia si faceva in America ma mancava in Italia e loro dice ma noi produciamo dei gioielli bellissimi e non conosciamo le gemme quindi hanno fatto proprio nascere questo istituto che negli anni naturalmente si è fatto conoscere si è fatto conoscere e il nostro istituto a parte il fatto che fa dei corsi proprio professionalizzanti cioè il ragazzo che ha finito diventa un gemmologo riconosciuto anche all'estero perché il percorso formativo non è facile ed è impegnativo ci sono degli esami sì sì sono degli esami tostissi però quando si superano quegli esami c'è una grande soddisfazione da parte di qualunque studente e di qualunque età perché abbiamo studenti dai 18 anni ai 60 anni che decidono di fare i corsi perché gli mancava qualcosa e questo secondo me è una cosa fondamentale poi c'è anche da dire che perché tra virgolette è diventato importante allora un po' per anche le persone che hanno sempre insegnato all'istituto sono sempre delle persone che hanno la passione di quello che stanno facendo come hai detto tu prima non è dare nozioni non è dare soluzioni ma ci stiamo offrendo uno strumento che potrai utilizzare quando parliamo domani parleremo di tormaline si diranno tante cose sulla tormalina ma ognuno dei presenti memorizzerà qualcosa e lo utilizzerà qualcuno parlerà del colore qualcuno magari di alcune proprietà non voglio anticipare ma però non perdete l'appuntamento con Lucia Gori domani sulle tormaline per quello che la formazione è importante ti dà uno strumento sta a te poi utilizzarlo nel modo corretto però una cosa fondamentale è sempre quello quando fai qualcosa fallo con passione cioè non frequentare un istituto perché diventi un gemmologo e magari trovo lavoro alla Richmond no perché se non ti piace quello che fai non non troverai lavoro perché perché dall'altra parte percepiscono se tu ami quello che stai facendo grazie Loredana noi avremo finito però in realtà la formazione non finisce mai e ora per essere coerenti col fatto che la formazione è un processo non è un momento io vi do subito appuntamento al prossimo talk che terrà Alessia e vi parlerà ancora di formazione e vi parlerà di mani intelligenti grazie mille io anche voglio farlo tutti con te grazie a tutti grazie a tutti